Amici di Androidblog.it, test video da top di gamma per questo LG G3 luogo dove la luce è molto fioca, tempo di apprezzare i pochi dettagli che verranno catturati da questa camera poi andiamo a cambiare repentinamente la luce ecco fatto, vediamo subito l'adattamento perfetto, stabilizzatore ottico per questo LG G3 quindi possiamo camminare per vedere come rimane stabile il video facciamo subito un controsole e poi riproviamo l'adattamento alle luci continuiamo a camminare ancora per un tratto fermiamoci di nuovo, proviamo lo zoom zoom, zoom possibile fino a ben 8x zoom però in questo caso digitale andiamo a fare ancora qualche passo fino a questa zona di forti chiari scuri andiamo ad avvicinarci al nostro vaso di fiori un po' sfiorito per vedere l'adattamento al fuoco aspettiamo che metta a fuoco, ecco fatto adesso spostiamoci di nuovo verso un campo più ampio aspettiamo la messa a fuoco, sembra un filo lenta muoviamoci verso destra velocemente e verso sinistra velocemente per questo video girato dalla camera da 13 megapixel in full hd da LG G3 grazie a tutti grazie a tutti